La sala operativa dell'INGV di Catania, le 19.21 di ieri 10 settembre, ha registrato un terremoto di magnitudo 3, avvenuto a 2 km a nord di Milo, in provincia di Catania, e ad una profondità di 8 km. L'evento sismico ha avuto coordinate geografiche, latitudine 37.74, longitudine 15.113. Non sono stati segnalati danni, ma la scossa è stata avvertita dalla popolazione, diversi sono stati infatti i commenti lasciati sui social network.